Che cosa cercano i vostri clienti? Termocoperte o riscaldamento? Tutti sono capaci ad applicare un paio di resistenze su un tessuto. Ma perché le termocoperte IRC sono diverse? Con IRC comprate tecnologia e business senza pensieri. No alle sorprese. Noi studiamo i pneumatici sulle rastrelliere, sulle moto, mentre sono in pista, col caldo e col freddo. Ciascuna di queste condizioni è differente e noi le conosciamo. Cuciamo le resistenze. Un sistema più costoso del semplice incollaggio perché solo la cucitura garantisce un perfetto posizionamento delle resistenze duraturo nel tempo, specialmente alle alte temperature. Le termocoperte non sono ancora un prodotto maturo e IRC investe in ricerca e sviluppo. Siamo stati i primi a brevettare e introdurre sul mercato il concetto di dual zone e di riscaldamento dei cerchi, ora impiegati nei campionati più importanti. Alcuni concorrenti si stanno proponendo con soluzioni similari, ma senza la profonda conoscenza che ci ha portato a sviluppare il prodotto finale. Nel 2019 abbiamo sviluppato la funzione Fast Off, un'altra importante innovazione nel mercato nata per soddisfare i team del campionato Superbike. Siamo diversi perché il supporto cliente segue l'utente anche ben oltre il limite della garanzia. Possiamo sempre controllare o riparare le termocoperte anche se molto vecchie. La produzione interna al 100% ci permette di essere veloci nella produzione e nelle spedizioni. Le nostre termocoperte sono made in Italy. Abbiamo un dipartimento interno dedicato allo studio degli elementi riscaldanti, sia moto che auto che industria. Le termocoperte IRC riscaldano i vostri pneumatici garantendo la corretta temperatura, l'isolamento, la sicurezza e tutto ciò che potete pretendere da un'azienda leader. L'affidabilità è fondamentale per i negozianti, gli utilizzatori finali ed i team. Tre case motociclistiche utilizzano i nostri prodotti per le loro prove stampa e giornate dedicate ai clienti. Durante questi eventi l'affidabilità è fondamentale per evitare brutte sorprese. Siamo differenti perché il design è parte del nostro DNA. Dieci anni fa, abbiamo presentato le termovacca e oggi possiamo offrire un'ampia gamma di colori, stampe e modelli. Ogni concorrente è capace di produrre termocoperte nere. La moda però è solo IRC. Possiamo stampare il logo del cliente prima della spedizione. Per una soddisfazione totale del cliente finale, chiunque può sentirsi come un pilota della MotoGP. Non importa se dobbiamo stampare un logo con la scritta TI AMO della propria ragazza.